un mazzo di carte l'astuccio lo lasciamo qui ecco qui sono tutte quante col dorso blu tutte le carte e sono tutte ovviamente differenti l'una dall'altra ok lo che devi fare è molto semplice toccane una quella che vuoi questa questa la lasciamo sporgente rispetto alle altre e questa è la carta che tu hai toccato ok l'appoggio qui sul tavolo vado a mescolare il mazzo adesso potete fare è inserire la carta scelta all'interno del mazzo in un punto qualsiasi dove vuoi qui vale la mettiamo all'interno e per perderla totalmente nel mazzo facciamo un altro miscui ok alziamo anche il mazzo così e voilà io adesso dovrò capire qual è la carta che tu hai scelto ok vediamo non è semplicissimo ma ce la posso fare guarda la tua carta è il 9 di quadri no come hai fatto vorresti saperlo è molto semplice basta fare così per far diventare tutte le carte bianche tranne la tua non è esattamente il 9 di quadri no solo la mia solo la tua è fantastico eh alziamo anche il mazzo così e voilà tutte le carte tornano a stampare no erano tutte bianche